di gran cazzi se non stai attento tra un po' si dividono se non li uscidiamo subito si dividono e iniziano a figliare eh ho notato qua non li faccio niente erina è morta no ma neanche noi vai tra dai che uno sta quasi morendo dai sei morto? chi? ma tu perchè stai fermo Fabri? io non sto fermo io ti vedo fermo ti giuro sto morendo? oh ti vedo fermo ho detto ma sto morendo? no no vedo da muovere e vedo giuttare ma non finisce più si è ucciso uno mamma mia sono devastanti eh no non morire io non sto morendo io ti ho visto morire sotto i miei occhi io non sto morendo ho tutta la vita no neanche per me per me sei morta e tu per me Fabrizzo stai fermo non lo so è baggato sposto ma io i reni non la vedo più si è vero neanche io ma ci sono un po' da male ma è quella qua è quella qua ma io non sono mai morto Fabri ma io non so perché non so cosa succede a me continuano a ripupparsi questi slimer di merda a me continuano a venire giù roba continuano a venire giù roba a me sono quasi finiti no dico continuano qualcuno mi droppa la roba ma io sono morta no sono morto ma come ho fatto a morire minchia che male Fabri cioè troppa roba cioè non so è troppo baggato no mi sa che è troppo baggato a sto posto si è baggatissimo io non vedo più nessuno io sono dentro ma in chi? no no io non vedo più nessun mostro per me sono tutti morti però io ho un casino di roba per terra ho un casino di drop mamma mia guarda quanta roba si ma non so se è vera o finta capito ma adesso a me ho droppato i tre tre casse non so se ce le hai in che te ma va tu per me sei tu per me sei fermo Fabri ma io mi hanno droppato un fottio di roba un fottio è dire poco ma siete ancora combattendo? si si a me c'è ancora roba ma io stavo posto anche a te c'è il portale a te si si c'è il portale guarda me ne vado no no ti prego ma intanto non faccio non li vedi tu i mostri rimani io non vedo il mio uno è sparito uno dei miei poi ho finito il portale di fase questo è dentro non so va bene a me cioè ritornone poi muoiono da soli e anche a me ok sono vabbè esco no perché aspetta 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 a me cioè intorno ne muoiono da soli non c'è ma per me sei ancora dentro a combattere ah infatti qui non carica più sono uscito e non carica più mi ha bloccato il gioco no continuo a morire troppo bug troppo 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 bug cioè hai visto che che cosa roba è sta roba cioè una roba allucinale oddio portale portale basta esco 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 grazie a tutti